Musica Un Rockies dal vostro Bruco Benvenuti a questa terza puntata di Lato B, Web TV Show Il pubblico ha sempre ragione Una portata per me molto molto particolare Perché finalmente vado a coronare un sogno Di un po' di tutti i format che ho curato Voglio ringraziare, sentite nel sottofondo Abbiamo il maestro Sandro Allario Che ci sta facendo questa attenzione Ma mi ricordo un altro programma però Mi sa di sì che è sbagliato, fammi risentire Allora benvenuti, questa sera appunto dicevo Corono un sogno, parliamo del mondo delle nuvole Parliamo tanto di fumetti in questa puntata Avremo anche la musica Ascolteremo anche della musica Ma devo dar subito la parola a Matteo Teoz Che è di là nel bunker come al solito Perché vi deve ricordare come interagire insieme a noi Bene, intanto mi viene da dire Voi in studio tateboni Ciao a tutti, ciao anche a casa Da Teoz qui nel bunker di Lato B Allora vi ricordo che avete la possibilità Di interagire con noi tramite I nostri contatti in Facebook Che ovviamente anche quelli in Twitter Cercando Lato B Web TV Show Abbiamo anche un indirizzo di posta elettronica A cui ci potete iscrivere Non solamente in questo momento Ma anche durante tutta la settimana Che è diretta At Lato B.tv Naturalmente Lato B ha anche un sito internet Che è www.latob.tv Bene, che dire, i contatti ve li ho dati tutti Attendo solamente i vostri feedback Mi raccomando anche per questa puntata Rimanete sempre attenti e sintonizzati a voi studio Allora hai imparato, tutti i contatti li hai imparati a memoria Bravo Teoz, hai fatto i compiti a casa Allora chi abbiamo qui ospite in studio in questa puntata È lì alla mia sinistra che sta disegnando Abbiamo Lola Airaghi Che durante la serata parlerà anche con noi Però lei ama disegnare È una disegnatrice di fumetti Lavora per la Bonelli Sergio Bonelli editore E di fianco a me invece abbiamo Mirko Perniola Che è uno sceneggiatore sempre per la Bonelli Allora, ciao Mirko Ciao Marco Se per quanto riguarda la figura estremamente del disegnatore È un po' più semplice capire Uno vede disegnare Diciamo che abbiamo capito che cos'è Esatto Cosa consiste il lavoro dello sceneggiatore nel mondo dei fumetti? Allora, il fumetto è un mezzo di comunicazione Un sistema che si usa per raccontare delle storie E anche il cinema o il teatro sono dei mezzi di comunicazione Di conseguenza, come per il cinema e per il teatro C'è la necessità di scrivere dei copioni C'è la necessità che qualcuno inventi una storia E descriva le ambientazioni, quello che si vedrà I dialoghi dei personaggi e tutte le interazioni Dall'inizio alla fine della storia Stessa cosa succede per il fumetto Cioè si scrive una vera e propria sceneggiatura Molto simile al copione cinematografico Al quale però vengono aggiunti tutte le descrizioni di piani e campi Che di solito nel cinema vengono scelte dal regista E a questo punto la sceneggiatura va in mano al disegnatore Che poi si occupa materialmente di disegnare Quello che lo sceneggiatore ha richiesto per ciascuna vignetta Ma quanto lavoro c'è dietro? Perché dobbiamo spiegare Non è che uno sceneggiatore prende in mano un personaggio Che magari ha già 100 storie 200, 250 Ecco lo stiamo dicendo appunto Perché questa sera parleremo anche di questo numero 250 Perché tu lavori principalmente su Zagor E su Nathan Never Nathan Never 250 Ma appunto qual è il lavoro che ci sta dietro A prendere un personaggio che ha così tante storie E così tanti anni? Allora per quanto riguarda il lavoro tecnico degli autori Legato alla produzione di un albo a fumetti Cioè un albo di quelli appunto di Dylan Dogg Di Tex Wheeler Cioè un albo di circa 100 pagine Che una persona legge mediamente in una quarantina di minuti C'è da un anno a un anno e mezzo di lavoro Da parte degli autori Tra sceneggiatura e disegni Si pensi che mediamente un disegnatore bravo Abile, veloce Riesce a produrre una tavola in un giorno Cioè una facciata di un foglio in una giornata di lavoro Perché è tutto disegnato a mano E poi ripassato con il pennello Con il pennino Con l'inchiostro di china Perciò insomma è un lavoro particolarmente lungo Stessa cosa dicasi per il discorso della sceneggiatura In cui appunto bisogna scrivere Tutte le pagine, le descrizioni Tutte le vignette Tutti i dialoghi Che vengono inseriti all'interno Per questo serve un anno Un anno e mezzo di lavoro Per un singolo albo È ovvio che nasce un problema Nel momento in cui ci si approccia Un personaggio di lunga data Appunto come può essere Zagor o Nathan Dove ogni mese Da 20 anni, 30 anni, 40 anni A questa parte Sono uscite delle storie nuove Originali Perciò il problema principale È cercare di inventarsi qualcosa di nuovo Cioè trovare un'idea Che risulti accattivante E interessante E che non sembri una minestra di scaldate Non qualcosa di già visto prima E poi anche trovare il sistema Per raccontarla Alla luce del gusto dei lettori Perché è ovvio che i lettori di oggi Non sono i lettori di 50 anni fa Cioè le stesse storie di Tex Wheeler Che potevano andare bene 60 anni fa Ricordiamo che Tex Wheeler Ha 60 anni di storia editoriale alle spalle Tutti i mesi Con un albo Con una storia nuova Più albi speciali Giganti Cioè numeri extra collana Perciò Si può avere un'idea Di quante storie Sono state inventate Raccontate Da 60 anni ad oggi Perciò creare qualcosa di nuovo È abbastanza complesso Riuscire a trovare qualcosa di originale È complesso Però insomma È il nostro lavoro È il nostro lavoro È il nostro lavoro È il lavoro È il lavoro più bello del mondo Perciò Allora Prima di Perché so che Teoz ha trovato una curiosità Legata al mondo dei fumetti Una curiosità molto Molto particolare Io andrei Se dalla Regia mi danno un po' Delle immagini Che ci hai portato Appunto di Nathan Never A parlare di questo Numero importante Il numero 250 Allora Per quanto riguarda Nathan Nathan appunto Il 250 Nathan Never è un personaggio di fantascienza Della Sergio Buon Editore Che ha 20 anni di storia editoriale alle spalle Con il 250 Si ha quello che in gergo tecnico Viene chiamato starting point Cioè un punto all'interno della saga Una storia Un albo Che permette a chiunque non abbia mai letto il personaggio Di avvicinarsi Di iniziare a leggerlo Come se fosse Un numero 1 Infatti in copertina Vediamo nell'angolino In alto a sinistra sotto il titolo Vale come un numero 1 Cioè da questo momento Se qualcuno non ha mai letto Una storia di Nathan Never Può prendere questo albo Come se fosse il numero 1 E cominciare a leggerlo Senza avere Quella sensazione Di essersi perso qualcosa Prima È ovvio però che Starting point Non significa reboot Cioè non significa Cansellare tutto quello che è successo E ripartire da zero Ma Raccontare delle storie nuove Che comunque Possano anche andare A ricollegarsi a storie passate E possano appassionare Quelli che seguono Nathan Never Dal primo numero ad oggi Di conseguenza si cerca di Creare un pubblico nuovo Accontentando comunque Quelli che fino ad oggi Lo hanno sempre seguito E continueranno a trovare Delle storie nuove Originali E Collegate anche Al suo passato Questo però Non darà mai l'impressione Di essersi persi qualcosa A chi si avvicinerà Al personaggio In questo caso Perché come abbiamo detto Una volta Mirko Durante un'intervista Che tra un po' Andrà a seguito Di lato B Vi ricordo questa sera Dopo la puntata di stasera Invece andrà in onda Piacere mio E poi l'intervista A Claudio Formisano Presidente di Dismo a Musica Ma nelle prossime puntate Sicuramente ci sarà Inizieremo Perché abbiamo fatto Una lunga intervista Insieme a Mirko Insieme a Lola Un fiume di intervista Molto interessante Che poi avrete la possibilità Di vedere Anche qui Dopo lato B Su Seilatv.tv Allora Qui abbiamo parlato Appunto che Il fumetto Viene considerato Una cosa per bambini Ma in realtà Non è proprio per bambini Il fumetto Allora Questo è Un'idea comune Un'idea che Ci trasciniamo dietro Da tantissimo tempo Perché effettivamente Il fumetto è nato Alla fine del 1800 Agli inizi Era indirizzato Solo ed esclusivamente A un pubblico Molto giovane Ai bambini È però successo Col passare Dei decenni Una cosa A cui nessuno Aveva considerato Aveva pensato Cioè Che i bambini Crescendo Non si sono allontanati Dal fumetto Ma hanno continuato A leggerlo E a questo punto Abbiamo avuto Un mercato Intorno agli anni 70 circa Dove Quando eravamo piccoli Noi In edicola C'erano Geppono Una belarda Soldino Braccio di ferro C'erano Un mucchio di personaggi Mi ricordo tu Tira molla Tira molla Erano un mucchio di personaggi Che andavano benissimo Per i bambini Ma erano affiancati Anche da Riviste contenitore Con all'interno Dei fumetti Per adulti Non fare quella faccia Non quel genere Di fumetti per adulti C'erano anche quelli È Sandro Che fa quella faccia Inquadriamolo Perché è assoluto C'erano anche quelli Ma c'erano fumetti Con delle storie impegnate Storie destinate Appunto agli adulti Tipo Vampirella Sì esatto Con delle storie Che sono state Anche poi riprese Dal cinema Insomma personaggi Che potevano interessare Diversi tipi di pubblico Oggi siamo arrivati Al punto che Spariti personaggi Per bambini In realtà In Edicolo Esiste quasi solo Topolino Soldino Geppo Non abelardo Non esistono più Non vengono più Pubblicati a fumetti Abbiamo per il 90% Fumetti Per grandi Per adulti Abbiamo i fumetti Della Sergio Boneditore Con Tex Wheeler Che appunto ha 60 anni Zagor Che ne ha 50 Nathan Never 20 Martin Mister Esatto Dylan Dog Insomma tutti i personaggi Che di certo Non sono indirizzati ai bambini Perciò per assurdo Il fumetto È considerato Un prodotto Per bambini Ma in Italia Che è una delle nazioni Dove vengono prodotte La maggior quantità Di tavole In proporzione Alle vendite Tanto per dare Dei numeri Pensate che Tex Wheeler Da solo In Italia Vende più di Superman Batman E l'uomo ragno Messi insieme Che sono tre personaggi Molto famosi Personaggi che si pensa Che vendano Chissà quanto Invece in realtà Tex da solo In Italia Vende molto di più Rapportato all'Italia Molto di più Rispetto a questi tre personaggi Perciò I fumetti oggi Sono un prodotto Realizzato da adulti Per adulti Che erroneamente Viene ritenuto Un prodotto Per bambini Mi ricollego Un attimo al discorso In Nathan Never Di prima Nel 250 Perché ho dimenticato Una piccola particolarità Lo starting point Di cui parlavamo Avrà anche Un cambio Di copertinista Cioè L'autore Il disegnatore Che ha disegnato Le copertine Fino a questo mese Lascerà il posto A un nuovo copertinista Perciò avremo Una partenza Della nuova serie Del nuovo ciclo narrativo Di Nathan Never Che avrà come copertinista Il bravissimo Disegnatore torinese Sergio Giardo Che diventerà Il disegnatore Principale Realizzando Un restyling Dei personaggi Delle ambientazioni Di tutto quello Che servirà Oltre che a fare Le nuove copertine E sicuramente Gli appassionati Come lo sono io Di fumetti Questa sera Si reccheranno Le dita Perché davvero Stiamo parlando Un argomento Che a me piace tantissimo Che mi auguro Che posso incuriosire Anche tanti ragazzi Perché io ho iniziato A leggere Che ero Un bambino I primi fumetti Della corno Te la ricordi L'editrice corno Uomo ragno Fantastici 4 Eccetera Eccetera Tanto a proposito Di copertinisti Avremo dopo Nel prossimo blocco Un copertinista Di lusso Abbiamo un copertinista Che niente po' di meno Ha creato Diciamo Graficamente Il personaggio Di Milan Dog E quindi avremo Claudio Villa In diretta Skype Però adesso Io so che c'è Teo Ti ho preparato Le curiosità E questo è davvero interessante Magari nemmeno voi La sapete Questa di curiosità Vediamo Nemmeno voi la sapete Perché viene Niente po' di meno Che dal Mozambico Allora oggi Vi voglio parlare Di fumetti Impiegati In un'importante Campagna di prevenzione Il concetto è Nessuno È immune Al tumore Al seno E quando si parla Di cancro al seno Non ci sono Donne Non ci sono Neppure super donne Questo è il concetto Che è stato sviluppato Da un'agenzia Per Diciamo Un'associazione Contro il cancro Del Mozambico E per questo Diciamo Per Per esprimere Questo concetto Sono state create Dei fumetti Delle vignette Dove vengono rappresentate Wonder Woman Tempesta She Hulk E Catwoman Questa è una campagna Molto interessante Anche sotto il profilo Della comunicazione A giudicare Dalle prosperose Protagoniste Che potete vedere Ora in video Verrebbe da pensare Che siano state disegnate Da un team creativo Tutto al maschile E invece no Invece no Sono state disegnate Da una donna Questa donna Si chiama Maisa Chavez E facciamo i complimenti Perché ha sviluppato Veramente Insomma Delle belle vignette Ok Grazie mille Teoz All'arrivato momento Della musica Io ricordo L'abbiamo postato Anche sul gruppo Di Facebook Questa sera Dovranno la CC Bermuda Acoustic Trio Purtroppo sono stati Bloccati dall'influenza Che in questo periodo qua Davvero ha bloccato Parecchi di noi E allora adesso Ci ascoltiamo Questo mio brano In compagnia del maestro Sandro Allario Nel cuore Sono morto e poi risorto In un angolo di un bar Della vita Della vita il mio rimpianto Questa mia ingenuità È questo è il posto dove giocano Un corpo di chi un cuore più non ha Versero le mie lacrime di sangue amaro che non ha un perché E sto toccando E sto tocando